Vai Dove è? Questo Qui qua Questo Vieni qua Mi piace di lui qua 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 Questi In su Vieni questi Sono questi Questi sono questi Questo Io Qu'un Signore Io Sono a 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 perfetto e ecco oggi da qui questo 1 2 ok andiamo che ho messo è tutto piatto qui resta a filo qui sotto qui a a a a a a a a c'è anche l'olio prima di chiudere tutto assicurarsi assicurarsi che faccia questo movimento questa presa presa ok è e questi e finisce a chiudere ecco ricordando di questo che è fondamentale qui ecco ricordando di questo che è fondamentale che a 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